Allora guardi, io condivido l'analisi di Fini e di Damiano, è vero, la situazione dell'Africa è questa per il capitalismo finanziario esasperato che è un mostro che non è mai sazio e ha impoverito l'Africa, l'America latina adesso sta impoverendo l'Europa ed è una catena. Il punto è, ha premesso che la condizione è quella, la soluzione è quella di portare in Europa tutti i disperati dell'Africa? No, questa è un'operazione suicida che altro non farà che uccidere l'Europa e creare un conflitto sociale ingestibile. Noi dobbiamo intervenire in quei paesi per ricreare le condizioni economiche perché la gente non scappi più. Altro discorso è chi fugge dalla guerra, chi fugge dalla guerra è un'altra cosa, chi fugge da condizioni economiche difficili però non possiamo pensare che la soluzione sia farli stare qui.